Ciao a tutti cari amici, scusate ma oggi sono un po' polemico, la notizia è di qualche ora fa, sicuramente l'avrete letta anche voi, ovvero in Italia negli ultimi tempi è in costante aumento il consumo di cibi preconfezionati, tra questi vi sono salumi già fettati, sughi pronti, verdure in sacchetto e così via. A quanto pare per venire incontro alle esigenze dei consumatori e ad uno stile di vita sempre più frenetico, le multinazionali starebbero pensando ai cibi già mangiati, cioè dal prossimo 4 di giugno sugli scaffali dei supermercati troveremo solo ed esclusivamente delle buste vuote, cioè vi sembra normale una cosa del genere? Vi sembra normale? A me no. A me no.